Questo è stabile, questo è edificio, c'è un'articata che abbiamo, in Italia, che ha un'articata, 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 un'articata che ha 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 un'articata. Io che è stato poi adattato, vedremo come spazio per la scuola. I ragazzi sono in aula al piano terra qua, al primo piano di là e in quei piani lì. Erupa, Benetto, Outland. Questa facciata per alcuni studiosi è una delle più belle facciate del Cinquecento a Padova, cioè questa cinquecento e dieci anni. Questa è la città della città della città della città della città. Grazie a tutti.